Ciao ragazzi! Oggi coloriamo questo gigante slime comunque un colore giallo, un colore blu, un colore arancione, un colore rosso, un colore grigio, un colore rosso, un colore verde, un colore verde. E' tutto rosso? Ragazzi ho aperto questo rosso! E' bellissimo! E' un profumo alla fragola! Tira qua! Ecco! L'ho messo tutto! Ho fatto degli occhietti e adesso ho potuto mescolarlo! E' un colore. Lo schiaccio tutto rosso! Un colore. Un colore. Un colore di olio. senti te, ho quasi tutto fatto a rosso senti la cordetta che bel colore un profumo di arancia ho messo l'arancione qua ho un profumo di 50.000 di arancia tutto arancione è morbido wow avete visto ragazzi? un po' più lungo apriamo il blu al profumo di acqua acqua questo barattolo è un ciccio bello abbiamo messo tutto blu tira un po' di acqua mettiamolo così 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 è tutto blu azzurdo faccio una nuvoletta lo spezzo un po' salta la cordella sti bubbeli una mane un po' di acqua un po' di acqua un po' di acqua ma come c'è giocato senza questo bianco per cosa? intorno rifaccio le sue bollette mangi 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 schiaccio acqua la 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 ragazzi schiaccio qua un po' salta la carne mettiamola adesso a questa burricino al controllo che si sta per spaccare ciao ragazzi ci vediamo domani con il suo video ah è stato iscrivetevi al mio canale ciao Gabi vi ho detto un bel pollicione ciao a domani